Sì, partiamo dal dire che se non ci fosse stata, questa è la mia opinione, l'attenzione di questa trasmissione, il Paese non avrebbe saputo di quanto grave stava accadendo. Io ho sempre pensato che nella lotta al crimine, al crimine organizzato in particolare, sia assolutamente necessaria l'informazione e quella che si definisce una forte tensione morale. Ebbene, la scarcerazione degli arresti domiciliari concessi a un numero così elevato di pericolosi criminali, alcuni al 41 bis e molti dei quali con condanna definitiva, al di là delle responsabilità individuali di cui pure si è parlato con puntualità in questa trasmissione, è un favore oggettivo alle mafie. E vado al di là del caso singolo, perché può essere vero in alcuni casi, come dice l'avvocato Cagliazza, che bisogna uscir fuori, ma posso dire con certezza che pericolosissimi criminali con patologie molto gravi sono stati adeguatamente e puntualmente curati all'interno del sistema inframurario. Quindi l'idea che si debba andare fuori è un'idea che non sta da nessuna parte. È stato fatto un favore oggettivo alle mafie in un momento delicato del nostro Paese.